Buonasera dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. In Fipili a causa di lavori due chilometri di coda tra Empoli ed Empoli Est in direzione Firenze e code in uscita alla Strassigna per traffico intenso provenendo da Firenze in direzione mare e rallentamenti tra Firenze e Scandice e la Strassigna e tra Empoli Ovest e San Miniato. Città di Firenze si ricorda che a causa dei lavori stasera dalle 21.30 a mezzanotte e 30 la linea T1 della tramvia farà servizio da Villa Costanza a Fortezza d'Abbasso e da Leopoldo a Careggi. Nel tratto Fortezza d'Abbasso Leopoldo sarà attivo un servizio di bus sostitutivo. Per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!